La sanità del Lasso si prepara ad accogliere eventuali pazienti in arrivo dall'Ucraina. In che modo? Noi abbiamo dato la disponibilità al Sistema Nazionale di Protezione Civile, qualora ce ne fosse bisogno, di accogliere coloro che hanno bisogno di assistenza sanitaria, soprattutto i più piccoli e i bambini. Lo abbiamo già fatto nel passato in altre crisi, sia che ha riguardato l'Afghanistan o durante il Covid abbiamo preso pazienti provenienti da altri stati, da altri paesi europei, ad esempio la Romania, ma non solo. Per cui il sistema è stato allertato, attendiamo indicazioni da parte del Governo, ma noi ci siamo e ci siamo anche, qualora ci fosse bisogno, di mandare dei team medici presso le zone che si riterranno opportune a prestare assistenza. Sono stati già individuati eventualmente dei centri che potrebbero accogliere questi pazienti? Mi riferisco ad ospedali oppure a centri che verranno proprio istituiti per l'occasione? Ma questo dipende dall'esigenza e dai numeri. Noi sicuramente l'idea di secondo e di primo livello sono stati tutti allertati e hanno, diciamo, delle competenze per quanto riguarda tutto ciò che è necessita per assistere questi pazienti. Ecco, adesso poi dipenderà dalle esigenze della protezione civile nazionale.